I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa detentiva in regime di arresti domiciliari emessa dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di un 52enne di Castel San Lorenzo, condannato a 10 mesi di reclusione. I fatti contestati risalgono all'anno 2013, quando l'uomo si sarebbe reso responsabile nei confronti della ex moglie di ripetuti atti persecutori. I militari della locale stazione, che hanno dato esecuzione al provvedimento, dopo le formalità di rito, hanno sottoposto l'arrestato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.